Ma come? Non ti sei ancora iscritto al canale? Su via, schiaccia quel bottone e attiva le notifiche per non perderti i video fighissimi che arriveranno! Eeeh, bella a tutti ragazzi, sono Luca di Ciccocugine e bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale. Il video di oggi ragazzi sarà un video un po' particolare perché vi porterò un video del 22 dicembre. Quindi sono passati un bel po' di giorni, un bel po' di mesi cavolo, era ancora inverno, in pieno inverno, invece adesso siamo in estate, fa caldissimo. Ragazzi io vi chiedo, se avete già visto questo video, quindi siete nostri iscritti dal 22 dicembre, commentate che sarebbe la cosa più bella per noi per vedere. E se non ci conoscete, io sono Luca di Ciccocugine e l'altro che vedrete è Fra di Ciccocugine e niente, facciamo dei video un po' migliori adesso. Fate conto che quel video lì era ancora con la grafica vecchia, con tutte le microfono, la webcam vecchia e adesso siamo migliorati moltissimo. Vi invito a guardare anche i nostri ultimi video per vedere che siamo migliorati. Lascio tutto a Fra che vi farà vedere un po' questo deck fighissimo con la principessa. Ragazzi invito a lasciare un like, a commentare e condividere il video perché finalmente abbiamo ottenuto tutte le carte del gioco. Oggi andremo a comprare dallo shop la principessa, l'ultima leggendare che ci mancava. Quindi un bel pollice in su, un bel commento e dai a queste condivisioni. Eccoci qui ragazzi, la principessa. 40.000 monete, noi per fortuna ne abbiamo 42.000. Sto donando un sacco ultimamente ed è questo il motivo per cui ho tutte queste monete. Maronne ho tutte le carte, ancora non ci credo cazzo. Ragazzi conto la rovescia. 3, 2, 1, tac. Abbiamo preso la principessa ragazzi, ancora non ci posso credere. Io ancora non ci credo. Eccola qua, guarda qua. Questa splendida principessa lancia frecce infuocate da lunghe distanze. Se la sua presenza ti scalda il cuore probabilmente è perché stai andando in fuoco. Maronne! Io la voglio provare immediatamente, la voglio provare ora! Siccome, sto pensando, siccome non ho fatto un video sulla cronazione, perché non la proviamo adesso? Almeno provo sia la principessa che la cronazione con voi perché ancora non avevo fatto un video dedicato. Dai va bene, proviamo sta cronazione, almeno ci leviamo il peso dal groppone. E se la connessione cade, sono bestemmie di fuoco. Quasi quasi, cambio qualcosina del mazzo. Contro l'aereo ora che ci penso non ho difese, quindi magari gli sgherri, che sono forse un attimo più utili, possono darci una mano. No! Non ci credo abbiamo perso, era nostra! Non ci credo! E c'ha l'inferno! C'ha il minatore, cazzo! Cazzo faccio contro questo qua, son troppo nabbo già... E ci ha dato il coppetto. Sai cosa ti dico? Ti dico che faccio così, carico lentamente, metto la fornace, me ne sto in difesa... Faccio così... Sono babbo natale! Dai, almeno una la voglio vincere! Non so perché, ma... Perdo male! Tronco! Grazie! La principessa se n'è andata a cagare! Ce la faremo? Ce la faremo? Boom! I danni? I danni li prendi? I danni li prendi? I danni li ha presi? Come fa il mini pecca ad essere vivo? Non lo so neanche io! Scaricati! Scarica! A momenti sbocco! Dai versi che faccio a momenti sbocco! No, però mi scoccia Fide, perché è assurdo, dai! Siamo obiettivi! Non puoi creare un gioco che è proprio scriptato e... Cioè, è certo che è scriptato! Dai! Su via! Non facciamo i birichini! Sicuro come minimo la pareggio! Oh, sicuro la pareggio, eh! Ci scommetto quello che vuoi! Oppure perdo! Sarebbe il colmo, eh! Ti fai tutta una partita a vincere come non so cosa! Guarda che lancia la fireball! Tac! E cazzo! Almeno una partita fammela vincere, no? Bene ragazzi, secondo me il video può concludersi qui! Secondo me è un buon mazzo quello che ho elaborato! Non so, non ho guardato su internet se ci sono altri mazzi! Se ce n'è uno uguale al mio! Quindi nei commenti, se commentate, non mi dite che hanno già fatto questo mazzo! Perché io, giuro, non ho guardato nessun mazzo! Non ho guardato video su YouTube, niente! Ho preso, ho fatto così, distinto! Quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su! Commentate, condividete il video! Mi raccomando, supportateci Coco Jean, ragazzi! Iscrivetevi al canale! E niente, noi ci vediamo nel prossimo video! Vai là ragazzi! Ciao!